Due quintali di vongole, pasta, pane, vino, locale, olio e prodotti agricoli offerti da enti e associazioni verranno utilizzati per offrire un pranzo solidale a ben 140 persone. Si tratta di famiglie fanesi e non solo, in particolari condizioni di difficoltà economica, segnalate dai servizi sociali e dal centro di accoglienza Opera Padre Pio. L'iniziativa che si svolgerà domenica 29 marzo al ristorante alla Lanterna di Metauriglia è stata organizzata dalla confraternita del Brudetto e dal consorzio itico-fanese con il patrocinio del comune di Fano. Parteciperanno anche ai vostri soci, però quale ruolo avranno questa volta? Di servizio, quindi serviranno a tavola e questa sera abbiamo due quintali di vongole da sgusciare per poter poi cucinare per la giornata del 29. Il ritrovo è previsto per le ore 12 alla stazione ferroviaria dove un pulmino sarà a disposizione per il trasporto degli ospiti che dovranno presentarsi con l'invito ricevuto. Un momento di integrazione e socializzazione che verrà ripetuto anche in altre occasioni. A settembre e nel periodo di Natale, ma oltre a questo la confraternita del Brudetto è già intervenuta nel 2003 dando un contributo all'Oggi dell'Accoglienza e all'Istituto Don Orione di Bellocchi e nel 2014 dando un contributo all'Associazione Adamo che assiste i malati oncologici nella fase terminale.